Credo molti sappiano, è uno spazio riscoperto dopo che i nostri scavi hanno portato qui sotto a circa 5-6 metri alla riscoperta dell'antico Vescovado che fu testimone di importanti eventi della vita di San Francesco, prima tra i quali la sua sfogliazione che l'ha immortalata da Giotto e poi anche altri eventi verso il fine della sua vita che tra qualche anno ricorderemo per l'ottavo accendimento. Per me è un motivo di grande gioia poter ospitare questi artisti e tutti quanti voi in questo luogo che si cambia naturalmente da 800 anni ma ora ancora più è stato riscoperto anche archeologicamente ad essere un grande luogo di spiritualità, di cultura e anche di fraternità e di arte. Benvenuti e godiamoci questa serata come direbbe San Francesco lodando Dio altissimo, onnipotente, buon Signore, tu e sulle laude, la gloria e l'onore. Francesco cantò questo canto verso la fine della sua vita anche tra queste nuove ed oggi la musica l'onora e ci eleva tutti verso l'alto. Buon anno. Grazie. Grazie.